Allora, di Tezuka autore L'ultima cosa è come autore L'ultima cosa che faccio vedere è Metropolis Usamo Tezuka Questo è in inglese, anche questo Adio dal Dark Horse, se non sbaglio Questo non costava tantissimo Ma ora non riesco a No, invece costava 13,95 Però anche questo l'ho preso su IBS scontato Insomma, non mi ricordo di quanto E molto carino Forse per Tezuka un po' più ingenuo Molti lo citano come la prima opera A fumetti lunga che ha appassionato Tanti lettori all'epoca Proprio anni 50 questo No, 1949 Proprio archeologia stiamo parlando Qui o quasi Però molto bella Permette di capire tante cose Nel senso che comunque Da questo molti si sono Ispirati per fare fumetti Tipo, insomma Se amate i manga E volete avere un'idea Di come si sono evoluti Questo può essere un buon acquisto In inglese ovviamente Quindi magari se non parlate l'inglese Non è esattamente Il massimo Però è un volume molto carino A me è piaciuto molto Di Tezuka Come ho detto Questa era l'ultima cosa Come autore Perché Praticamente io ho tutto quello Che è stato pubblicato in Italia E mi manca la serie di Buddha Però che sono 13, 14 I numeri Non mi ricordo Prima o poi la recupererò Che anche quella Costa un po' Quindi Prima o poi Ce la farò anche con quella Ce l'ho fatta con Blackjack Ce la farò anche con Buddha Però vi devo far vedere un'altra cosa Che riguarda Tezuka comunque La cosa di cui vi volevo parlare È questo stupendo volume Che Tezuka secondo me Una biografia d'autore Di Takao Yaguchi Che è l'autore di Sanpei Che vediamo in copertina Perché Questo non è una biografia Cioè il titolo può trarre un pochino In inganno In pratica l'autore Parla L'autore di Sanpei Parla Delle sue Di come ha vissuto Nel dopoguerra In Giappone Di come Tezuka l'abbia influenzato Nella sua Nella sua desiderio Di disegnare fumetti Nella sua carriera In tutto Cosa è stato Tezuka Per lui E per tanti altri giapponesi Perché Tezuka è l'uomo Che si è inventato il manga Come oggi lo conosciamo E È un volume stupendo Di questo vi ha parlato Anche Caverna di Platoni Nella sua recensione E ne ha parlato anche Ryuchi Nell'ultimo episodio Della Nanodat TV Mi pare il 34 È bellissimo Secondo me È una di quelle Poche cose Che andrebbe letta Più o meno Da tutti Nel senso Tutti gli appassioni Di fumetti Dovrebbero dare Una possibilità A quest'albo Che purtroppo È il prezzo Assolutamente proibitivo Di 18 euro Però Sono soldi assolutamente Ben spesi Cioè Veramente Veramente Non lo so Non lo so spiegare Perché non mi sento in grado Di comunicare Quello che mi ha dato Questo volume Un amore sconfinato Verso il fumetto Mi ha comunicato Un amore Proprio Non lo so È bello Cioè Sappiatelo È proprio bello Quindi se ne avete la possibilità So che sul sito Della Feltinelli Era scontato Forse lo è ancora Però Provatelo Cioè Non ve ne pentirete Non ve ne pentirete davvero Di questo È curioso Perché è pubblicato Dalla K. Edizioni Andreaba Ricordi La Continuo a definirlo In continuazione Come una lettura fondamentale Penso sia Una delle poche volte In cui il responsabile Di case editrice Non esagera Perché voglio dire Spesso le case editrici No Devono tirare acqua Al loro mulino Per pubblicizzare un titolo Quindi magari Presentano un'opera Come il capolavoro Del mondo Però poi non è vero Invece Ricordi Secondo me Quando dice Che questa è una lettura Fondamentale Ha perfettamente ragione Una volta tanto Ha perfettamente ragione Quindi Ve lo consiglio E sono assolutamente Orgogliosa Di averlo Nella mia libreria E con questo Ho finito Lo scaffalino Di Tezuka Adesso Passiamo a uno Dei titoli Più sconosciuti Che ho in casa Ovvero The Calling Di Reiko Okano Che è Edito dalla Defunta Shinvision Che in realtà Faceva DVD Prevalentemente Ha pubblicato anche Qualche Pochissimi manga Questo è The Calling In questo bellissimo Cofanetto Altro che quello Di la J-pop Perdonatemi Cioè Se io tiro fuori i volumi Questo cofanetto Sì È cartoncino Ma C'è cartoncino resistente È fighissimo Fuori È un'altra cosa Questo è un fantasy Perché è un adattamento Dei romanzi Di un'autrice di cui Sta scritto qua Tratta dal romanzo The Forgotten Beasts of Hell Di Patricia McClendon Sono bellissimi volumi Questo è l'uno Questo è il due E questo è il tre Sono veramente bellissimi Cioè Non vorrei risultare monotola La linea dei disegni È proprio un fantasy Nella tradizione Nella Proprio Pensate a un fantasy È questo È assolutamente sconosciuto Perché Già dalla Pubblicato Dalla Sheinvision Oltretutto Mi ricordo Che per quando è uscito Svariati anni fa Il prezzo Era assolutamente impossibile Perché è un 18 euro A volume L'edizione È una cosa C'è la copertina È una consistenza Che non ho mai sentito Nessun'altra parte Proprio tipo Di quel cartone Da libro Non lo so Non rendo proprio l'idea Pure le pagine Cioè L'edizione è stupenda 18 euro Sono veramente troppi Io questo in realtà L'ho recuperato Credo un paio D'anni fa Ho fatto una follia Perché Se fate 18 per 3 Fa 54 Se non erro Sì L'ho trovato su ebay Avevo disponibilità economica Era sempre quel periodo In cui ho potuto spendere E spandere un po' di più L'ho trovato su ebay Perché questo è difficilissimo Da trovare È tanto bello Quanto veramente impossibile Mi ricordo Due anni fa Ho girato il romics Per lungo e per largo Poi mi vergogno Un po' a chiedere Quindi cerco sempre Di fare un po' Per conto mio Invece tutti chiedevano Ce la vedete Decolling Di Raiko Kano E di Toda Lashin Vision Tutti che mi guardavano Con la faccia Appunto interrogativo Tutti i proprietari Degli stand Non lo conosce Veramente nessuno Ma se lo conosciamo Solo sullo smouse Sono profondamente Convinta di questo Ehm Però è un'opera Stupenda Però costava Veramente troppo Cioè diciamolo Io ho fatto la follia L'ho recuperato su ebay Che poi è tipo L'unica asta Che io abbia mai visto Su ebay Per tutta la serie completa Con tutto il box Perché magari Riuscirete pure A trovare Un volume sparso Di qua Un volume sparso Di là Però li volevo tutti e tre Senza stare Magari poi Dio ho il numero uno Mi manca il tre Oltre me manca il due No E quindi Io sono sciatuare Con tutto il cofanetto Però è proprio Introvabile Quindi Se siete interessati La trovate Ritenetevi Estremamente fortunati Però è veramente Veramente bello Anche questo È fantastico Sembra proprio un libro Cioè Spero di essermi fatta capire Bellissimo Ora passiamo A La libreria Questa che sta Alle mie spalle Che vedete sempre Alle mie spalle Sta in corridoio Che non è Dedicata ai fumetti Diciamo che Di soppiatto Mi sono appropriata Di un Di uno Scaffalino Cioè I miei me l'hanno liberato Io ci ho messo Dei libri Però ci ho infilato Poi anche i fumetti Io non so Se mia madre Se ne è accorta E mio padre Se ne sono accorti Che ho messo Anche nella libreria Quella che vedono Tutti gli ospiti Ho messo I fumetti Spero non se ne accorgeranno Mai O comunque Faranno finta di niente Infatti ci ho messo I fumetti Quelli che fanno Un po' più bella figura Le costine Vabbè Bisogna attaccarsi A tutto Qui per sopravvivere E vabbè La prima cosa Che vi faccio vedere Ma in realtà Ve ne parlo già Ogni Ogni video di acquisti Che faccio Ogni mese È la ristampa Di Nausicaa Della Valle del Vento Sono usciti per ora Nel momento In cui sto registrando Questo pezzo I primi Quattro numeri Questo era quello Che mi ero fatto prendere Dal fumettaro In vetrina E questo Bellissimo Mi sta piacendo tantissimo Il primo numero Non mi era tanto piaciuto Gli altri mi hanno conquistata Quindi sono veramente contenta Edito dalla Planet Manga E questo ci concluderà Col 7 Meno male Perché 9,90 euro Vabbè che ne pago 9 Con lo sconto Ma 9 euro al mese Alla Planet Mi fa davvero male Al cuore Devo essere sincera Oltre che al portafoglio Oltre che al portafoglio